lei ha giocato con tanti giocatori importanti e adesso facciamo l'undici per vincenzo grella i miei compagni non solo o che da avversario vincenzo grella ha detto guarda che c'è qua è come lo fermo portiere buffo buffo difesa 3 o a 4 a 4 a 4 quindi quella la manteniamo sempre la difesa 4 i due centrali john terry terry maldini maldi da centrale non d'esterno centrale terzino sinistra serginio sergi serginio terzino destro cafu cafu e la si va a faccio metodista no con due mediani con due mediani e allora andiamo da un lato grella no no forse gerard gerard mi sta bene come avversario gerard l'altro mediano direi emerson emerson il puma poi giochiamo con due ali o 33 1 spettacolare o due anni dai 31 no con due esterni una punta e due esterni e poi punte in perpendicolare oppure perpendicolari quindi qua abbiamo una seconda punta fantasia allora e poi 4 2 3 1 se mettiamo un trequartista cacca e allora e 4 2 3 1 dai direttore qua bresciano bresciano e qui ciu e 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 punta viduca viduca mamma mia questa la firma vincenzo grella l'undici per eccellenza col 4 4 2 o 4 4 1 1 come voi 1 1 va bene